Giovanni Russo, siamo qui nel reparto di ginecologia della nuova struttura dell'ospedale Moscati di Avellino. Quali gli aspetti positivi di quest'unità operativa? Gli aspetti positivi sono sotto gli occhi, questo comfort alberghiero, che purtroppo di cui noi difettavamo in passato, adesso forse ne abbiamo un eccesso. Questo sembra più un albergo che un ospedale, come è giusto che sia, non vedo perché una paziente che si ricovera per prestazioni mediche, chirurgiche che siano, non debba stare in un ambiente confortevole, anche in un ambiente confortevole, visto che non ci viene per divertimento. Abbiamo delle sale parto bellissimo, a tutte le donne, quasi tutti, il 99%, partoriscono ormai in partanalgesia, in epidurale. Quindi abbiamo abolito il tabù del dolore da parto, completamente abolito. Quindi un evento bello, non vedo perché debba essere tacciato di dolori, 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 il terrore eterno, il tabù eterno dei dolori del parto, tramandato più per un fatto culturale che reale, ma comunque è stato completamente abolito dall'epidurale.